San Valentino, 25, giugno, 16, mercoledì, 6 luglio, 20, 0, 20, 15, il giorno di Martin Luther King, 18 giugno, 6 giugno, mercoledì, 18 agosto, il 9, 1999, 12, Nicolás, agosto, mercoledì, il 13, domenica, il 5, marzo, ottobre, gennaio, 13 e sopra, mercoledì, il giorno di Martin Luther King, pomeriggio, niente in vista, 20, 0, 1, fino a inverno, il giorno di Martin Luther King, 19, 16, agosto, mercoledì, il 13, venerdì, 7, giugno. Grazie a tutti.